Il 2021 del Notaresco si apre con una vittoria, la sesta in stagione, con la formazione del presidente Di Giovanni che ritrova la vetta della classifica agganciando in vetta il campo basso. Nella calza della Befana per il rosso-blu dunque i tradizionali dolcetti, ma anche un po' di carbone per un primo tempo giocato male e condito da tanti errori. Di tutt'altro Crisci è la ripresa nella quale si è rivista la squadra che è tra le favorite per la vittoria finale. Rispetto al derby vinto a Castelnuovo-Vomano, mister Epifani recupera Blando dopo l'infortunio e Colombatti dopo la squalifica per entrambi una maglia da titolare. Sul fronte opposto il tecnico urbano rinuncia all'infortunato delicato, coppia d'attacco composta dall'argentino Galesio e dal portoghese Abreu, top scorer dei campani con quattro reti. Il Notaresco non ha un buon approccio al match con il Matese che risponde colpo su colpo. Al quarto d'ora l'avvisaglia di quello che sarebbe successo, un super intervento di Shiba nega la gioia della marcatura ad Abreu, ma due giri di lancetto e più tardi ecco il vantaggio della formazione ospite. Fa tutto ad Usa che recupera palla e in diagonale fulmina l'estermo difensore rosso-blu. Matese avanti al minuto 17. Fa fatica la compagine di Epifani a reagire, squadra che sbaglia tanti appoggi, il poco movimento che favorisce l'attento schieramento del Matese. Al ventinovesimo suona la scossa Marchionni con un'azione personale in velocità, tiro respinto dalla difesa. L'azione prosegue, lo stesso numero 7 crea la palla gol più pericolosa con un tiro a giro che lambisce il palo alla sinistra di Palombo. Tutto qui il primo tempo con le immagini di Giancarlo Rapagnà passiamo alla seconda frazione. Dagli spogliatoi rientra un Notaresco volitivo ed aggressivo e dal decimo ecco il primo intervento di Palombo che neutralizza un colpo di testa di Capitano Speranza sugli sviluppi di un angolo. Ma nella ripresa la marcia dei Rossoblu è diversa e gli effetti non tardano ad arrivare. Minuto 14, ecco il pari, lo trova Marchionni, il giocatore che ha dato la scossa ai suoi. Deviazione volante su cross di Banegas e palla nel sacco per il terzo centro in stagione del numero 7 di casa. Da applausi veramente la conclusione dell'ex Montegiorgio che non ha lasciato scampo a Palombo. L'inerzia è cambiata, mister Epifani manda in campo Simoncini e Cancelli al posto di Ghiani e Blando e appena 4 minuti dopo è proprio Cancelli a ribaltare il punteggio. Azione caparbia di Dos Santos e Banegas. La sfera arriva al giocatore classe 2000 che al volo mette in rete per il suo secondo gol in stagione. Notaresco 2, Matese 1. La gara resta vibrante ed in equilibrio, è passata la mezz'ora e il Matese si riaffaccia dalle parti di Sciba con un tiro di Setola, attento, il numero 1 che blocca in due tempi. La risposta del notaresco al quarantesimo con un'azione manovrata che porta al tiro il neentrato Paganin, diagonale e sul fondo non timolto. Partita finita? No, perché c'è ancora da notare al quarto minuto di recupero l'espulsione di Palombo, estremo difensore del Matese, per un fallo su Dos Santos che lo aveva saltato in velocità. Dentro Kuzmanovic dalla panchina a difesa dei pali dei campani, ma il numero 12 fa appena in tempo a raccogliere la palla in fondo alla rete perché la successiva punizione dal limite viene trasformata dallo stesso Dos Santos con un tiro secco e preciso. 3-1 e quarto gol in stagione per il puntero Scarioca, che esulta mentre il direttore di gara decreta la fine del match e la gioia rosso-blu che inizia l'anno in vetta alla classifica.